Arte e viaggio è il binomio su cui si basa Italian Art Tour 2019, un progetto di Carla Viparelli che, ispirandosi al Grand Tour, ha portato in campagna un gruppo di artisti provenienti da tutto il mondo, anche dal Giappone e dall'India. In questi giorni sono stati ospiti di Vallo della Lucania, dove hanno trasformato in un vero e proprio laboratorio alcuni locali dell'ex convento dei Domenicani. Spazi in cui hanno prodotto opere di pittura insieme ad artisti del posto e utilizzando il materiale messo a disposizione dal Comune, che ha condiviso l'iniziativa considerandola di alto valore culturale e anche turistico. Durante la permanenza nel Cilento, infatti, gli artisti stranieri sono stati accompagnati in visita nei luoghi simbolo del Parco Nazionale. I lavori realizzati sono stati donati al Comune Vallese e messi in mostra nel chiostro dell'ex convento dei Dominicani, andando a formare un primo nucleo del Costituendo Museo d'Arte Contemporanea. L'amministrazione del sindaco Aloia è intenzionata a ripetere l'esperienza, spiega Viparelli, perché richiene che la formula workshop, ospitalità e donazione rappresenti uno scambio d'eccellenza da sostenere. Terminata l'esperienza nella cittadina salernitana, gli artisti si preparano a raggiungere l'Art Hotel Gran Paradiso di Sorrento e nei giorni che rimangono del loro Italian Tour dovranno dedicarsi all'installazione in alcune stanze, una per ogni artista.